Nell'ambito di un servizio finalizzato al controllo straordinario del territorio in materia di armi, i carabinieri della Compagnia di Giarre hanno denunciato otto persone. Tre soggetti in questione, ci sono anche tre donne. Le persone denunciate sono residenti nei comuni di Calatabbiano, Giarre, Santa Venerina, Milo e Zafferano Etnea. Le stesse sono state trovate in possesso di armi e munizioni ereditate alla morte dei congiunti e non denunciate all'autorità di pubblica sicurezza. Nella circostanza sono stati sequestrati 14 fucili da caccia, una pistola a tamburo e circa 550 cartucce. I denunciati dovranno rispondere all'autorità giudiziaria di detenzione illegale e omessa denuncia di armi.